e ti do la parola spero di non deludere le aspettative di Maria Angela la riflessione che è stata chiesta riguarda un sentimento che ha le caratteristiche della reciprocità da un lato la condizione degli eletti nelle assemblee elettive quindi dei consiglieri che molto spesso avvertono e dichiarano una condizione di non soddisfazione rispetto all'esercizio del proprio ruolo perché è troppo sottoposto al potere esecutivo vuoi se in maggioranza per principi di lealtà vuoi se all'opposizione per una mancanza di trasparenza e di comunicazione delle decisioni che ha come riflesso appunto simmetricamente una delusione da parte di quella cittadinanza che prova a praticare gli strumenti di partecipazione al processo decisionale e si trova spesso di fronte ad assemblee elettive che o sono distratte o ignorano o lamentano la propria impotenza quindi siamo immersi in una condizione di reciprocità che porterebbe a dire se si trovassero delle condizioni di reciproca alleanza forse potrebbe essere modificabile positivamente questa condizione di stallo la condizione di stallo è stata attribuita da molti analisti ma anche dal senso comune alle modifiche istituzionali che sono intercorse dagli anni 90 in poi in modo particolare l'approvazione della legge 142 del 90 che ha rivisto le reciproco e competenze e responsabilità tra la competenza politica elettiva ed esecutiva e quella amministrativa ma in particolare la legge 81 di elezione diretta del sindaco a cui hanno poi fatto seguito le riforme del titolo quinto della costituzione in ordine agli ordinamenti regionali alle funzioni concorrenti alla elezione del presidente della regione diversamente normata da statuti e da regolamenti delle diverse regioni quindi una delle spiegazioni più ricorrenti è quella per la quale una evoluzione delle forme istituzionali produca proprio in ragione di questi mandati diretti alle figure apicali sindaci presidenti di regione produca una involuzione della democrazia rappresentativa questa è una delle spiegazioni più ricorrenti ed è una spiegazione di cui in parte ci si condivide la responsabilità nel senso che la scelta di anteporre la capacità di semplificazione e di riconduzione ad unum del processo decisionale è stata realizzata con la motivazione non del ce lo chiede l'Europa ma ce lo chiedono i cittadini i cittadini e le cittadine vogliono governabilità vogliono continuità vogliono sveltezza nelle procedure vogliono chiarezza nell'individuazione di chi ha assunto le decisioni quindi le funzioni esecutive diventano funzioni prevalenti sembrerebbe quindi sempre quando questa piegazione che si sia sacrificato il principio della rappresentanza in capo alle assemblee allettive in virtù del principio della governabilità questa è sicuramente una spiegazione che ha delle buone ragioni e delle buone motivazioni soprattutto se i comportamenti soggettivi dei sindaci dei presidenti di regione o delle loro maggioranze sono dei comportamenti eccessivamente assertivi per cui sembra quasi che si sia di fronte a un nuovo cesarismo piuttosto che a una condizione di impegno e responsabilità sull'esercizio delle funzioni esecutive ma almeno nell'analisi che propongo non è l'elemento capace di spiegare complessivamente la difficoltà dalla quale siamo partiti e nella quale siamo immersi anche perché per onestà intellettuale bisognerebbe dire che non solo le esperienze individuali ma anche la letteratura in materia ci riporta ben prima delle riforme istituzionali di cui ho detto un quadro di sofferenza delle assemblee elettive impegnate e travolte ai voti su qualunque decisione dalla più minuta dell'approvvigionamento dei risorse materiali dell'ente alla più impegnativa sulle funzioni di programmazione travolti appunto al punto tale da non realizzare più alcuna fisionomia rispetto alla caratterizzazione politica si diceva in allora l'insostenibile leggerezza delle assemblee elettive da questo punto di vista quindi gli elementi che oggi connotano le funzioni e i ruoli tra gli eletti nelle istituzioni in termini di assemblee consigliari e le potestà di carattere esecutivo del primo cittadino del presidente della regione e delle giunte sta in una dicotomia che viene riassunta e sembrerebbe poter funzionare come i meccanismi di un orologio in questa modalità consigli spettano i ruoli di indirizzo e di controlli al sindaco e alla sua funzione esecutiva intesa come collaboratori della giunta competono le funzioni di proposta verso il consiglio e compete l'attivazione e l'esecuzione delle decisioni prese il che sembrerebbe esattamente una distinzione di ruoli comprensibile spiegabile anche ordinatamente volta alla sorveglianza dei processi decisionali e alla possibilità di modificarli il primo tema su cui ci si potrebbe interrogare è il seguente la funzione di indirizzo e di controllo corrisponde al principio dell'amministrazione condivisa in termini orizzontali e in termini verticali cosa si intende per amministrazione condivisa orizzontalmente nella relazione tra il potere esecutivo e il potere delle assemblee che può essere legislativo o deliberativo ma si può intendere anche in termini verticali cioè la relazione tra le funzioni delle istituzioni e la partecipazione da parte dei territori da parte dei cittadini e delle cittadine diversamente organizzati da parte delle organizzazioni di terzo settore quindi c'è un primo problema che è quello di come da un lato si possa indirizzare e controllare se si è formalmente e sostanzialmente esclusi dal momento decisionale puro quello in cui quanto si vorrebbe fare viene tradotto in atti per fare atti che quindi sono di competenza della giunta e se questo partecipare sul cosa fare ma non sul fare consenta alle consiglieri e ai consiglieri di avere elementi di conoscenza e di competenza tali da poter poi valutare e quindi esercitare quella famosa funzione di controllo questo è un tema profondamente sensibile perché è un tema che introduce la distinzione sempre ovviamente nella mia interpretazione tra atti pubblici e politiche pubbliche la giunta assume degli atti pubblici i consigli assumono degli atti pubblici ma non è la sequenza di quegli atti che costruisce una politica pubblica quindi alle consigliere ai consiglieri non può essere sufficiente la conoscenza dei singoli atti che vengono assunti perché la conoscenza dei singoli atti non costruisce l'idea della politica pubblica prendiamo un esempio se un consigliere esercita una funzione di giudizio di voto di indirizzo sulla determinazione della politica delle tariffe ed è una competenza delle assemblee la giunta propone ma le assemblee determinano in sede di definizione dei bilanci ma non è in grado di conoscere perché non le pratica le conseguenze delle decisioni assunte quali variabilità queste decisioni comportino sulla capacità economica dei soggetti sociali sul livello di affizione dei soggetti sociali rispetto ai servizi per i quali vengono pagate le tariffe sulle percentuali di abbandono determinate da determinate politiche fiscali ebbene se non conosce la politica questa seconda parte è la politica pubblica non la sequenza degli atti se non conosce la politica pubblica cioè i risultati prodotti dalle decisioni assunte cioè che cosa succede nel mondo dopo le decisioni assunte ebbene quella funzione di indirizzo diventerà una funzione meramente burocratica esercitata nell'arena delle relazioni tra maggioranza e minoranza e non sarà invece l'esercizio di una funzione reale di rappresentanza di rappresentanza degli interessi per i quali si è stati eletti cioè gli interessi della popolazione di FUR certo esistono anche degli strumenti correttivi che ci aiutano a intervenire sulla valutazione delle politiche pubbliche ad esempio alcuni regolamenti di alcune istituzioni hanno istituito la clausola valutativa delle politiche pubbliche che in regione Piemonte esiste una modalità per la quale i consiglieri e i consiglieri supportati anche da elementi di analisi di carattere scientifico introdotti da collaborazioni con università o con altri enti esaminano esattamente le condizioni in termini di ricadute delle politiche pubbliche non perché l'analisi sociale economica fatta da soggetti terzi si esaustiva di quel corpo vivo al quale facevo riferimento prima cioè il corpo della cittadinanza su cui ricadono le scelte ma perché almeno gli elementi di raggruppamento di sintesi di analisi aiutano a costruire la curiosità per entrare in relazione perché dal mio punto di vista l'esercizio della funzione di rappresentanza non è data una volta per tutte nel momento del voto ma è costruita nel corso di tutta la responsabilità amministrativa attraverso la pratica della relazione ora dire questo è più complicato che non dire mettiamo mano in un altro modo ai figurini istituzionali con altre riforme istituzionali per colmare quel difetto di origine di cui da cui siamo partiti perché l'esercizio di correggere credendo che la soluzione istituzionale di riscrittura di riforma possa risolvere il problema di questa caduta di questa involuzione democratica è un'illusione o una furbizia a cui la politica molto spesso si concede basta vedere che adesso in ragione delle situazioni di estensione alla partecipazione elettorale si ragiona se valga o non valga mantenere il ballettaggio al secondo turno quindi con l'illusione perpetua che si possa risolvere un problema che è della democrazia e della relazione la relazione con la politica attraverso il cambiamento dei meccanismi istituzionali è pur vero che è molto più difficile curare la relazione e costruire ragionevoli forme di rappresentanza in un'epoca come questa in cui i livelli della decisione sono trasferiti a piani diversi spesso non raggiungibili quasi mai controllabili da parte delle assemblee elettive perché siamo di fronte ad una tecnicizzazione della politica e la tecnicizzazione della politica non è solo il trasferimento di poteri dalla parte politica alla parte amministrativa e tecnica ma è il fatto che le condizioni generali in cui si trovano ad agire le istituzioni hanno prodotto producono e produrranno dei livelli decisionali che spungono totalmente e la partecipazione dal basso e la partecipazione dell'assemblea elettiva facciamo degli esempi concreti un esempio concreto ad esempio è la predominanza dei temi economici e la traduzione dei temi economici anche dal punto di vista di flussi finanziari attraverso meccanismi di finanziamento che arrivano ad esempio dal livello europeo e che necessariamente negoziano non con la rappresentanza di un paese o di un territorio ma negoziano con il potere esecutivo di quel territorio pensate ad esempio al ruolo della conferenza stato-regioni che è un ruolo assolutamente essenziale per le ricadute che ha sulla vita reale e sul corpo che respira e che pensa della cittadinanza discutere il riparto del fondo sanitario nazionale tra le regioni e cosa c'è di più coinvolgente e di più pubblico in termini di politica pubblica che no capire come possono essere destinate le risorse che arrivano alla tutela della salute eppure quello è un luogo che è esattamente l'opposto della condivisione della partecipazione perché è il luogo della negoziazione tra un governo centrale e i governi delle regioni nemmeno delle autonomie locali oppure altri livelli dove il sistema di progettazione si colloca ai vertici istituzionali regioni autonomie locali pensiamo a tutti gli accordi di programma ottica urbanistica dove l'assemblea elettiva non determina la facoltà dell'accordo che è sottoscritto dal primo cittadino ma prende atto dell'accordo stesso quindi nemmeno potendo esercitare un potere di carattere emendativo quindi ci sono sicuramente in virtù del trasferimento delle decisioni in sede comunitaria in virtù delle modalità con le quali si muovono i flussi finanziari verso le istituzioni delle modalità di costruzione del processo decisionale che stanno fuori dalla possibilità di un controllo se non di tipo formale da parte delle assemblee elettive quindi l'aspetto per il quale chi è stato eletto dovrebbe interrogarsi su come esercitare il proprio ruolo come si comprende dalla complessità che ho cercato di definire è sicuramente un processo di grande difficoltà che prende atto di essere formalmente spunti da alcuni modelli e momenti decisionali tuttavia se vogliamo riportare appunto la realtà vivente per la quale si è rappresentanti della propria comunità all'interno del modo d'essere delle consigliere e dei consiglieri nelle assemblee elette ci sono alcune questioni appunto richiamando la pratica di relazione a cui facevo cenno prima che mi pare possano essere efficacemente richiamate prima dicevo bisogna rifondare l'idea della rappresentanza che non è data una volta per tutte con il momento del voto peraltro in un'epoca in cui ci viene detto fate pace con voi stessi chi è stato eletto governa e se non governa bene tra cinque anni avrete modo di cambiarlo quindi mi pare chiaro che stiamo esattamente facendo un ragionamento controcorrente e si sta camminando contro vento dicevo prima che c'è una modalità di esercizio della relazione della pratica politica che può essere esercitata non costruendo una tecnicalizzazione delle assemblee elettive come si è tecnicalizzata la funzione esecutiva della giunta quanto piuttosto provando ad eserciare alcuni passaggi e momenti che pure la norma consente ad esempio il momento di approvazione degli atti di bilancio è un momento fortemente spostato sulle assemblee elettive e questo momento di composizione delle decisioni non solo dovrebbe essere una questione di caratterizzazione delle opzioni e delle priorità politiche ma consente anche l'introduzione di alcuni strumenti ad esempio degli strumenti di valutazione che in quella fase possono essere ampiamente valorizzati sappiamo che accanto allo strumento contabile nel momento dell'approvazione del bilancio c'è uno strumento di programmazione si chiama DUP documento unico di programmazione ebbene il documento unico di programmazione è la proiezione triennale delle intenzioni di una comunità organizzata a livello istituzionale quindi di un consiglio comunale che approva il documento unico di programmazione in base alla proposta dell'aggiunta ebbene che quel documento unico di programmazione possa o non possa contenere degli indirizzi ad esempio relativamente ai bilanci di genere e quindi a capire come reciprocamente le decisioni producono condizioni differenti a seconda che la popolazione sia maschile o femminile adotti stili di comportamento nei confronti dei servizi pubblici differenti in ragione di queste condizioni la valutazione di impatto ambientale la valutazione di impatto sulla salute sono tutti meccanismi che possono pur essendo giuridicamente obbligatori che possono essere strutturati o semplicemente come un appendice ai documenti di bilancio magari scritta nella maniera più forbita possibile dagli uffici delegati oppure possono essere questioni di impatto politico e questa volontà e consapevolezza del consigliere e della consigliera fa la differenza ma l'altro elemento è quello che può esercitare una modalità di coinvolgimento della comunità locale giocando sul principio della sussidiarietà verticale il principio della sussidiarietà verticale viene molto spesso richiamato nelle relazioni interistituzionali ma il principio di questa sussidiarietà ha a che fare ad esempio in una città come una città metropolitana quale noi viviamo con il principio del decentramento l'accessione di potere e il coinvolgimento nella determinazione del potere con le articolazioni territoriali che sono appunto non solo funzioni amministrative più vicine alle condizioni e alle differenze dei territori ma sono di nuovo o dovrebbero essere di nuovo una forma di esercizio da un lato di democrazia rappresentativa dall'altra di partecipazione ebbene questa questione del decentramento è una questione cruciale nella definizione di un nuovo principio di rappresentanza che riporti responsabilità in capo consigliere e consiglieri tradossalmente assistiamo ad un atteggiamento di conservazione del potere indifferente tra che si sia consigliere che si sia assessori e gli eletti a livello delle assemblee circoscrizionali dei consigli di circoscrizione mentre ad esempio l'aspetto della sussidiarietà praticata verticalmente amplierebbe i principi di rappresentanza amplierebbe gli elementi di conoscenza sulle ricadute concrete materiali e vissure delle decisioni assunte a livello centrale e consentirebbe una vitalità da parte degli eletti nelle condizioni decentrate diversa da quella attuale per la quale come dire finisce con l'essere quella dell'esercizio di una funzione di rappresentanza tutta chiusa nelle mure delle istituzioni una di quelle aspettative di crescita e cammino verticale dalla circoscrizione al comune dal comune alla regione dalla alla mentre invece il principio della responsabilità nella rappresentanza è un principio come dicevo che dovrebbe essere ricostruito sulla relazione ma se va ricostruito il senso della rappresentanza chi può aiutare a ricostruirlo che vantaggi hanno reciprocamente le parti nel ricostruire questo senso di rappresentanza ma soprattutto che vantaggi generali se ne potrebbero ricavare ebbene prendo per articolare questo ragionamento ad esempio una delle altre questioni che sono intervenute come modifica legislativa contemporanea sulle attività istituzionali e in modo particolare su quelle attività istituzionali che riguardano i servizi alla persona quindi servizi educativi servizi sociali servizi di tutela della salute parlo della riforma del codice del terzo settore e della introduzione attraverso il decreto legislativo 117 del 2017 il codice del terzo settore che all'articolo 55 vede la coprogrammazione e la coprogettazione cosa sono queste due terminologie che chiunque prende in mano una delibera degli enti locali vede riprodurre sistematicamente in realtà sembrerebbe il sacrosanto e condiviso principio dell'amministrazione condivisa quali sono i soggetti che costruiscono in una comunità e non perché siano stati eletti attraverso i meccanismi elettorali ma perché assumono autonomamente volontariamente una responsabilità di interesse generale si occupano di condizioni particolari della popolazione o di momenti particolari di organizzazione della vita collettiva sono i soggetti del terzo settore gli enti di promozione sociale le cooperative sociali il volontariato la protezione civile ebbene la normativa consente oggi di costruire delle attività di indirizzo su macro tematiche che riguardano queste sfere attraverso il meccanismo della coprogrammazione il che vuol dire io ente locale non guardo a questa realtà come a una realtà esecutiva ancillare a cui affidare attraverso bandi e appalti l'esercizio di alcuni servizi o di alcune funzioni ma proprio perché siete organizzazioni di rappresentanza diverse da quelle elettive costruisco con voi che vivete esperienze concrete di partecipazione costruisco con voi la definizione degli indirizzi e quindi delle priorità allora già qui c'è un primo tema costruisco con voi chi il sindaco e l'assessore quindi costruisco con il potere esecutivo ed è curioso che le assemblee elettive non si pongano su questo tema che è come dire sostanziale della definizione dell'identità di un territorio per la definizione delle priorità politiche sulle quali intervenire non si pongano il tema del loro coinvolgimento e assumono come un dato di fatto il secondo passaggio che deriva dalla coprogrammazione che è quello della coprogettazione cioè insieme quel che sarebbe desiderabile fare ma anche insieme ciò che deve essere fatto e quindi attraverso una modalità di avviso e di chiamata pubblica anche la definizione dei soggetti attuatori ora questa modalità è una modalità che costruisce dal mio punto di vista una relazione che può essere preziosa rispetto alla crescita civile di un territorio ma che altrettanto espropria l'assemblea elettiva di una parte delle proprie funzioni di rappresentanza se quell'assemblea elettiva non avverte un rigurgito di funzione e un rigurgito di responsabilità per provare ad introdursi dentro agli strumenti della programmazione della progettazione non in modo surrettizio togliendo spazio e potere a chi per norma invece ha avuto questa investitura ma in modo sostanziale perché c'è una questione fondamentale che se si vuole lavorare per la rappresentanza di un territorio e si vuole riconoscere che quella non è data una volta per tutte dal momento elettorale ma è un processo in mutamento allora da questo punto di vista bisogna anche essere consapevoli che il governo tende a misurarsi con le forme più strutturate della partecipazione e con le forme più organizzate dell'espressione degli interessi quindi la relazione con il governo in sé non è in automatico perché avviene attraverso un processo democratico o un processo trasparente un vero e proprio momento di riconoscimento degli interessi che si muovono nell'ambito sociale proprio perché gli interessi più affermati tendono ad accreditarsi nei confronti dei soggetti che governano e invece il cambiamento sociale nasce proprio dalla partecipazione dei soggetti che sono meno garantiti nella relazione con il potere e quindi nasce proprio dalla capacità di quei livelli istituzionali che agiscono nei consigli e nelle assemblee di cogliere le modalità che non consentono di includere di cogliere le condizioni per le quali alcuni sono discriminati o hanno meno voce semplicemente perché hanno meno potere insomma la partecipazione chiamiamola dal basso per usare un linguaggio di reciproco riconoscimento in questa in questa sede conviene a chi vuole partecipare per affermare un punto di vista una disponibilità un cambiamento nella propria città anche l'essere portatore di interessi particolari dove il termine interesse non è di per sé disdicevole pensate a essere portatore di interessi di tutela rispetto a condizioni di salute o di emarginazione nel campo lavorativo conviene a questi soggetti ma conviene ancora di più a chi è eletto nelle istituzioni perché se chi è eletto nelle istituzioni avesse la capacità di essere credibile in modo tale che chi partecipa non salga solo sempre i gradini dello scalone monumentale che portano all'ufficio del sindaco ma salga anche i gradini che portano agli uffici delle formazioni politiche che compongono l'assemblea elettiva allora quella funzione di rappresentanza si riempirebbe di vita vera e quella funzione di partecipazione riuscirebbe a costruire un'interlocuzione ampia che poi influenza il processo decisionale insomma concludo dicendo che la crisi della democrazia rappresentativa è certamente in parte riconducibile a meccanismi di riforme istituzionali ma è fondamentalmente una crisi della politica e parlare oggi con la disaffezione che c'è alla politica di ricostruzione della partecipazione politica e quindi di riscoperta del senso di sé delle assemblee elettive sembra veramente andare contro mano in una società che va in tutt'altra direzione però Mariangela Rosolene ci crede volere la luna ci crede voi che siete qui stasera ci credete e io intanto vi ringrazio di avermi ascoltata grazie 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 grazie